bello a tutti ragazzi e più ragazze benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su un altro diverso video troppo diverso sempre sul terzo episodio di minecraft godotivi il video eccoci qua ragazzi con il mondo di sopravvivenza oddio mio mio dio allora sono uno il tuo tre boss allora ora parlo un po' in alta voce ragazzi andiamo a quella cazzo per dire spero che il video vi guidi e vabbè non so parlare oggi non so parlare spero che i video speciali di Halloween mi siano piaciuti godetemi anche questo sul domani e niente tra poco ci sarà pure uno no speciale una collaboration una collaborazione con un canale se ci riuscire a farlo qui sto di tre mila volte che devo fare un video con quel canale però non si non so che cazzo sta la cazzo allora dove cazzo è casa della strega sono disperso del bosco vorrei 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 ringrazio eccolo qua ragazzi come vi ho promesso mi sto portando mi sto portando video anche questo mese e niente tra poco succederà pure qualcosa allora così usiamo il lato allora così ok usiamo il lato ok usiamo subito allora lo scherzo di no 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 the hedge with tra scheletri ragazzi in diretta con un cuore di vita di manga guardate 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 no siamo tornati alla nostra casuccio spero di incontrare più nessuno per favore incontrare più nessuno cheat guarda polozzoli guardano guardano non so che cazzo fare 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 ma questi bug vabbè non so che cazzo fare non so che cazzo fare pitana su muori porco muori porco muore muore ancora un attimo un attimo ragazzi attenzione un colpo solo ancora se cazzo ci faccio con questo ora mi spiegate formiche condividiamo il mio video quello di chi fa verso spaz di fifa verso spaz perché è uno dei miei video più riusciti ci ho messo un impegno incredibile vi consiglio di lasciare che continui così potranno vederlo anche i vostri amici e i vostri parenti allora vi saluto da con steve qua mi saluto da con steve e niente voglio lasciate raggi iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video aspetta noi ci vediamo al prossimo video bye aspetta noi ci vediamo al prossimo video No, 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 no